Lo sballo tra i ragazzi che sfidano i loro limiti, in provincia di Rimini la lega italiana lotta ai tumori ha studiato come i giovani si rapportano alle droghe e sigarette. Dall'analisi è emerso che tra i 15 anni l'eroina risulta la droga più popolare dopo la cannabis. Il 2% dei maschi, quasi 5.000 ragazzi, ha dichiarato di averne consumato almeno una dose nel mese precedente all'indagine, 3.000 invece hanno fatto uso di siringhe. Sono stati 1.391 i questionari con 33 domande a studenti dai 14 ai 20 anni che frequentavano scuole medie superiori del territorio di diversi indirizzi, 63 classi complessivamente dalla prima alla quarta superiore che avevano precedentemente seguito un corso di introduzione sul tema. In provincia di Rimini sono stati raccolti ed elaborati 1.165 questionari pari all'83,75% del totale, il 34% delle classi erano del primo anno mentre il 36% del secondo, il restante 30% studenti del terzo e del quarto anno. L'età media dei partecipanti era di 15 anni, il 53% degli studenti era di sesso femminile, il 47% di sesso maschile, il 10% degli studenti era di nazionalità straniera, sul consumo di sigarette il 47% dei ragazzi ha provato a fumare almeno una volta, il 95% una quantità compresa tra 1 e 10 sigarette e il 79% di loro non ha continuato a farlo. Dei ragazzi che però hanno continuato a fumare il 92% sostiene di fumare una quantità pari o minore 10 sigarette. Il 97% degli intervistati realizza che la nicotina è una droga e crea dipendenza, ma nonostante questo una buona parte di loro è convinta di poter smettere in qualsiasi momento. Anche se il 66% dice di non aver mai provato a farlo, mentre quell'esile percentuale che ci ha provato, il 57%, ha fallito. Riguardo all'uso e abuso di alcol, il report evidenzia che il 76% dei ragazzi ha provato almeno una volta una bevanda alcolica e l'occasione per bere è per quasi tutti il sabato sera. Inoltre la metà degli studenti crede che l'alcol sia una droga, la seconda maggioranza di questi è consapevole del fatto che possa creare dipendenza e il 75% è d'accordo nel sostenere che un alcolista non possa smettere quando vuole. Infine il 78% dei giovani sa che l'alcol è una delle principali cause della morte di molti ragazzi coetanei. Grazie.